Eccoci tornati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosio.it Questo è il corso introduttivo ad After Effects È un corso introduttivo nel senso che diamo gli strumenti a chi non ha mai utilizzato questo software per muovere i primi passi nella grafica animata Se siete già esperti di After Effects questo probabilmente non è il corso che fa per voi Ma se siete agli inizi questo è il posto giusto che fa per voi Ovviamente se volete e avete voglia recuperate le lezioni precedenti di questo corso introduttivo ad After Effects Benissimo, nelle scorse lezioni, nelle ultime due lezioni abbiamo affrontato il tema dei livelli 3D in After Effects Abbiamo visto come si crea un livello 3D Abbiamo visto come si cambia il punto di osservazione nel monitor di anteprima dei livelli 3D Quest'oggi vedremo come creare e utilizzare le videocamere per cambiare il nostro punto di vista Senza muovere gli oggetti Saremo noi a muoverci all'interno della scena Bene, creare una videocamera in After Effects è semplice come creare un livello Basta cliccare nello spazio vuoto del pannello dei livelli Andare alla voce nuovo e scegliere la voce videocamera Clicchiamo, compare questa finestra Non vi fate spaventare Ci sono molte cose che si possono modificare Molte impostazioni che possiamo andare a personalizzare Noi in questo caso ci limiteremo a dare un nome alla nostra videocamera Camera 1 per esempio Ok, camera 1 Non tocchiamo nulla Per il momento lasciamo così e clicchiamo su ok Ok, nulla apparentemente è cambiato Se non che tra i livelli troviamo il nostro livello videocamera Bene, se clicchiamo sul menu a comparsa visualizzazione 3D Noteremo che oltre ai classici punti di vista Avremo a disposizione un nuovo punto di vista Chiamato camera 1 Clicchiamoci E questo è il punto di osservazione della nostra videocamera Mi spiego Noi muovendo questa videocamera Potremmo muoverci all'interno della scena Per esempio Lettera P per modificare la posizione Vedete? Io sto modificando la posizione Sull'asse orizzontale Della videocamera Non sto muovendo i livelli Sto muovendo semplicemente la videocamera Quindi la prospettiva tra i due oggetti cambia Vediamolo Osservando la scena dall'alto È ancora più chiaro Questa è la mia videocamera Questi sono i due livelli Io posso andare a muovere la mia videocamera E muovendo la videocamera Posso modificare ovviamente Quello che è il mio punto di vista Ora A volte può essere utile Avere due visioni Due angolazioni Contemporaneamente visibili Come fare? Se fate caso A fianco al menu Per modificare il punto di vista Abbiamo un altro menu Chiamato appunto Selezione vista layout È molto intuitivo Noi possiamo utilizzare Due punti di vista contemporaneamente Quindi Seleziono la seconda voce Due viste orizzontale E vedete che adesso Ho due sostanzialmente monitor di anteprima Identici Ovviamente su un monitor di anteprima Per esempio questo di sinistra Vado ad impostare Quella che è Il punto di vista della mia videocamera Sul monitor di destra Lascio serenamente Attivo Il punto di vista dall'alto Bene Come potete vedere Adesso modificando la posizione Della videocamera Sto modificando Chiaramente Il punto di osservazione Della scena Come se avessi fisicamente in mano Una videocamera E mi stessi muovendo Oh Chiaramente Sì adesso Invece che osservare la scena dall'alto Andassi ad osservare la scena Per esempio Da sinistra Noterei Che la mia videocamera È molto più bassa Rispetto ai due livelli Quindi è come se io fossi Accuacciato per terra E stessi osservando Questi Questi livelli Dal basso Posso ovviamente Modificare Vedete L'angolo Da cui sto osservando I due livelli Posso giocare un po' Come voglio La cosa bella di tutto questo Che è Animabile Utilizzando i keyframe Quindi utilizzando i keyframe Posso Muovermi per esempio Tra i livelli Posso simulare la camera Che va avanti Che ruota Perché no Perché io mi posiziono Nella vista dall'alto Premo Il tasto R Sulla videocamera Come potete vedere Posso ruotare E muovermi Agilmente Tra i vari livelli Ripeto Questa è solo Una semplice introduzione Una panoramica Di quello che è possibile fare Non è Non voglio essere Esaustivo In questa sede È solo un'introduzione Per mostrarvi La possibilità Le possibilità Meglio ancora Che abbiamo Utilizzando i livelli 3D E le camere Virtuali Di After Effects Nei prossimi tutorial Vedremo anche Come estrudere Magari i livelli Per renderli Effettivamente 3D Perché ricordiamo Torno alla visualizzazione Ad una vista Ricordiamo Che Noi stiamo Utilizzando Sì Dei livelli 3D Ma gli oggetti Contenuti In questi livelli 3D Sono pur sempre 2D È come se avessimo Un foglio di carta Che muoviamo nello spazio Ma sempre un foglio di carta È Sempre sottile Non abbiamo un senso Di profondità Reale Esistono tecniche In After Effects Per creare Estrusioni E semplici Diciamo Oggetti 3D O anche complessi Utilizzando software Esterni Come Cinema 4D Maya Eccetera Continuerà il corso Di After Effects Con altri argomenti Introduttivi Nelle prossime lezioni www.fabbiambrosi.it Lì trovate L'articolo Di queste Chiacchierate Virtuali Che stiamo facendo Iscrivetevi A questo canale YouTube Mettete un like A questi video Se vi piacciono Condivideteli Con i vostri amici Ovviamente su Facebook La pagina da cercare È Fabio Ambrosi Lì troverete Tutti gli aggiornamenti News E quant'altro Per restare aggiornati Grazie E al prossimo Video Tutorial Ciao